Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, nell'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani c'è scritto quanto segue perché se per il fallo di quell'uno la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque esiste il dono della giustizia, così è chiamato. In che cosa consiste? Che cos'è? Il dono della giustizia non è altro che la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, ossia la giustizia che viene dalla fede. Essendo dunque che questa giustizia è basata sulla fede, viene dalla fede, è offerta gratuitamente a chi crede, o meglio, questa giustizia gli viene imputata senza opere. Infatti questo è quello che insegna la Sacra Scrittura. sostanzialmente gli viene imputata la giustizia senza opere come fu imputata ad Abramo. Infatti Abramo, il patriarca Abramo, cosa dice la scrittura del patriarca Abramo? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Cioè la sua fede gli fu messa in conto di giustizia. Dunque lui conseguì la giustizia mediante la fede. Come vi dicevo, è data gratuitamente. Non si può né meritare e neppure guadagnare. Quindi non è che uno la può guadagnare con delle opere buone o, come anche sovente vengono chiamate nel cattolicesimo, opere di riparazione. Nella maniera più assoluta. La giustizia viene dalla fede. Ora, dato che viene dalla fede, ciò significa che si ottiene credendo. Credendo. Ma credendo in che cosa? Credendo in Gesù Cristo. Che cosa significa credere in Gesù Cristo? Significa credere che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Quindi significa credere nell'Evangelo. Perché proprio credendo nell'Evangelo la giustizia viene imputata al credente, la giustizia di Dio? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco perché vi ho annunziato l'Evangelo. Affinché credendo nell'Evangelo voi otteniate il dono della giustizia, ossia siate giustificati. E possiate dunque poi dire, come lo diciamo noi ora, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Sì, pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Dunque lo scopo per cui vi annunzio l'Evangelo è questo. Affinché voi, credendo nell'Evangelo, siate giustificati. Voi direte, ma perché abbiamo bisogno di essere giustificati? Certo, perché agli occhi di Dio siete dei peccatori. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. I peccatori sono dei nemici di Dio, sono sotto la condanna di Dio. Quindi avete bisogno di ottenere la giustificazione per essere appunto costituiti giusti. E questa giustificazione la potete ottenere, perché si ottiene soltanto credendo nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Ecco perché vi ho annunziato l'Evangelo, ossia la buona novella. Affinché credendo nell'Evangelo, voi siate giustificati. Lo ripeto, affinché otteniate la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Allora, nel momento in cui otterrete la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, otterrete anche la vita eterna. Quindi sarete strappati al fuoco dell'inferno, perché l'inferno è il luogo dove state andando, in quanto i peccatori sono diretti all'inferno. È là appunto che vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Ma nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo, egli ottiene la vita eterna. Quindi ha la certezza di avere la vita eterna. Come è certo di essere stato costituito giusto, egli è certo anche di avere la vita eterna in Cristo Gesù. E quindi è sicuro che quando morirà si dipartirà dal corpo ed andrà ad abitare con il Signore. Questo, tutto questo quindi, l'uomo lo riceve per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi non illudetevi, non pensate di potervi meritare la giustificazione o guadagnarvela. Non pensate di potervi guadagnare o meritare la vita eterna. Perché vi illudereste? Vi illudereste! La vita eterna, dovete sapere, è il dono di Dio in Cristo Gesù. Non è qualcosa che uno può andare a comprare dal Signore o che si può meritare dal Signore. La vita eterna è il dono di Dio. E si riceve appunto credendo, perché dice la scrittura, chi crede ha vita eterna. Però vi avverto per l'ennesima volta. Se rifiuterete di credere nell'Evangelo, rimarrete agli occhi di Dio dei peccatori sulla via della perdizione. Quindi l'ira di Dio rimarrà sopra di voi. E quindi cosa vi aspetta? Vi aspetta l'inferno. Ecco perché vi dico, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Affinché il Signore abbia misericordia di voi, affinché il Signore manifesti la sua bontà verso di voi, imputandovi la giustizia senza opere, affinché in altre parole Egli vi giustifichi. Allora solo in quel momento avrete pace con Dio. Perché adesso non avete pace e non avete pace con Dio. Perché? Perché siete dei nemici di Dio. Quindi vi esorto, ravvedetemi e credete nell'Evangelo. Chiaro è chi da udire? No.